Ciao, buonasera. Buonasera. E' entrata in coppia. E' uscita da sola. Eccolo, è arrivato. E' arrivato, è arrivato a te. Lei è venuto in coppia? Sì. E' uscito separato? No, sta uscendo. La tua moglie sarà contenta? Sì, contentissima. Continuerà sempre da fastidio. Siete ritrovati? Siamo ritrovati. Sì, siamo ritrovati. Tutti e due? Sì, sì. Purtroppo sì. Ma perché ti separi dopo? No, 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 assolutamente. E' soltanto che fa riflettere. Ridendo e scherzando fa riflettere. La tua vita è da single da 40 anni. Quindi faccio la parte di uomo e di donna. Adesso le tornate a casa cambierà qualcosa? No. No? Sì. Assolutamente. Come mai è venuta a vedere questo spettacolo? Ho intenzione di separarmi. Io sono entrata quasi piangendo ma non ho mai riso come questa volta. Però ha pianto comunque... Da ridere! Risate proprio, risate. Assai? Assai, 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 assai. Mi separo anch'io la prima, la seconda, la terza e la quarta. Io volevo trovare mia moglie là sopra. Uguale. Nel suo caso c'è stato poco da ridere. Eh, tanto. Sembrava di stare a casa, guardo. Uguale. Solo che a casa non ride. Non consiglierebbe gli amici in cine, 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 a tutti col cuore. Sì, assai, 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 assai.